Va in archivio anche la terza serata del settembre culturale di Agropoli, che ha visto presentare questa volta le lancette spezzate, dell'autore cilentano Antonio Pesca, un testo che vuole rievocare il caso di Aldo Moro. Con il mio libro non cerco di dare delle risposte, io ho cercato di fare in modo che ci fosse un romanzo a cui attingere per conoscere quali furono gli eventi che hanno caratterizzato la storia italiana esattamente 40 anni fa con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. Perché quel rapimento e quell'uccisione è uno spartiacque della nostra storia. C'è un prima e c'è un dopo. Ricordiamo che Aldo Moro era insieme a Enrico Berlinguer il politico e cercò di portare avanti quella che è passata alla storia come teoria delle convergenze, come compromesso storico con il rapimento e con l'uccisione. Questa visione politica fatta da lui e fatta da Enrico Berlinguer andrà a morire e inizierà un'altra stagione politica. Naturalmente il mio titolo delle lancette spezzate nasce proprio da questo, nasce dall'avere in maniera violenta spezzata le lancette della politica ma anche delle vite perché morirono 5 agenti di scorta quella mattina del 16 marzo del 1978. E chissà può darsi anche che ci siano stati altri che abbiano subito la stessa sorte inerenti proprio a quegli eventi. Il contributo che do è un contributo attraverso un romanzo perché spero che sia proprio per la forma romanzata un'occasione di riflessione soprattutto per i ragazzi e di conoscenza. Perché loro sono il futuro e vedere nelle scuole che si arriva ancora oggi nei programmi, nei testi e si arriva alla seconda guerra mondiale e non si va oltre dimenticando gli ultimi 70 anni della nostra storia che sono fondamentali significa aver amputato una parte della nostra storia fondamentale per conoscere chi siamo noi oggi. Ecco perché il romanzo ed ecco perché mi auguro che sia ad uso e consumo soprattutto delle nuove generazioni.